Ragazzi, abbiamo avuto un leggero problema tecnico, mi... Cazzo è rato. Come va? Come state, signori? Io direi di passare direttamente al gioco, anche per... ...tatole di... ...niente? ...e... ...a giocare a questo gioco qua, che è bellissimo, e... ...infinitamente. Comunque, eccoci qua. Eccoci qua, e la cattura al gioco non va. Che invece va, invece. Allora, io direi di continuare... ...dove eravamo arrivasti, e ho scoperto cosa sono quei pozzi neri. Ho scoperto cosa sono quei pozzi... ...che permettono praticamente di ottenere dei buff... ...e sono molto rischi. Ero arrivato qui. Stavo facendo una... ...partita per fatti miei. Ho sbloccato anche la... ...la lancia. Devo sbloccare i guantoni. E... ...niente. Io direi, a sto punto, di vedere un po' in giro... ...e di andare qui. In the name of Hades. Tiro lacerante. Per quattro incogni e sblocco cinque... ...ogni volta che attacchi... ...a seguire il tuo lancio è più potente del 51%. Ma non ne vale proprio la pena. Non puoi raccogliere i cristalli... ...per 13 secondi. Quasi 14. Ottieni un cristallo in più. Quattro incontri. No, no, ok, qua. Al momento non lo posso prendere. Ah, ok. Ok, come funziona. Ecco, come funziona. ...e io direi di prendere il dono. Andiamo. Uh! Uh! Boom! Carica. A parte che dovrei rivedere la build un attimo. Perfect. A parte che dovrei vedere un attimo solo la build che ho. Ok, attacco respinge ed è più potente. Speciale infligge spornia. Lancio scaglia un proiettile che sarebbe la nebbia festiva. Occhio di lama. I nemici uccisi hanno probabilità per la scelta dei oggetti. Ok. Ehm... va benissimo. Va benissimo. Andiamo a prenderci un po' di monetine. come ooh Dai Nella lava Ne sentite alcuni là Devo andare un po' a riprendere il cristallo che non so dove sta Vai Bello Ottimo Monete Aumentiamo la vita oppure Caronte Oppure andiamo da frutite No andiamo dal Dal buono Dal buonissimo Però a questo punto io direi di andare da Caronte Perché potrei curarmi anche Tariffa d'ingresso Ottieni un po' di denaro ogni volta che entri in una camera Schivata rapida Possibilità di schivare automaticamente No Dopo uno scatto Se brevemente risoluto Ti rubi del 100% Iper scatto Ma ricorda un sacco di ablo sta roba Andiamo a prendere Il padre di tutti gli dei Ok Ok Quella è immune alla sbornia Visto bene Oh 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 Io odoro gli attacchi che mi offre sto gioco Uh Uff Basta Quante ne vedo di cose Basta I cristalli Uh L'ultimo Ah si A parte che questo dovrebbe essere l'ultimo incontro con A parte che gli offro pure questo Lord Zeus Um Uncone Please accept this offering and all my gratitude Uh Non dovreva Non doveva essere nonno in questo caso Perché Zeus è il padre di tutti gli dei Annello Annello tonante Scatto donante Fa battere Sui nemici Veneta celeste Quando si uscita nel tuo nemico è colpito da un fulmine A questo punto Questo ci Mettiamo pure la velocità Vai Cosa devo fare qua Cosa Ah ecco L'ultimo Cosa 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 grazie per la trappolina è bellissimo usare lo scudo questo gioco andiamo qua mandiamo la vita a sto giro non ho intenzione di ah scusi un diamante una gemma o un diamante come stai come stai come stai oh Mag è più difficile di lui Ok ha uno scudo Dobbiamo far togliergli di mezzo Prima queste le copie Commetto Puri uno Puri due Uh Mamma mia Bellissimo Hmm Ok Ah di nuovo le copie E' più duro questo giro Puri uno Puri uno Puri uno pure uno dai l'ultimi due la buttata la granata e dove andate mio lancio oh nice ok e andiamo avanti ok qua ci dovremo curare a sto punto io non dovrei vendere niente seguite lì tra i pristi nel 10% quando entri in una camera vabbè fa niente che coloro non lo possiamo comprare non c'è nient'altro qua da esaminare andiamo avanti non so quanti dungeon devo fare comunque esci dai predi del tetto the rare heavenly splendors of Elysium reserved for only the most great of mortal souls spread forth luxuriantly all about the fire stepping prince luxuriantly really ehm Athena oppure io direi di fare questa cosa qua perchè magari boh non lo so c'è magari la cosa che qui ti danno altri buff niente contro la tena ma come sei ripreso ah ok questi ecco questi hanno una hanno uno spirito a quanto pare poi lo dobbiamo distruggere in tempo ok bella sta meccanica ok volo e freddo il tuo attacco speciale può rimbarciare fino a quattro volte prima di tornare da tetto attacco scattante 15-50% di un'aria più ampia il tuo attacco colpisce due volte ma non allontane i nemici questo qua che è quello là che è un po' uso di più io direi di usare la prugna a sto punto andiamo a potenziarci ok ah aspetto ah bello che adesso no bellissimo uomo del potere, fendente divino il tuo attacco è più potente e respinge gli attacchi nemici ah se io direi tu lancio scagli un proiettile che è esplosivo, che esplosione allora, danni lancio 180 io direi di portare avanti, al momento il fendente divino come utenziato oh no a questo punto ci andiamo a fare pure un giro da caronte però io che potrei prendere da caronte cioè niente al momento non c'ho soldi oh no adesso parano pure loro hanno capito che possono parare pure loro no porca miseria comunque sto subendo un po' troppi danni per quanto mi riguarda ok ok E io direi di andare dalla resta a sto punto C'è un mini boss comunque Anche a contest, neither will I Wait, you're not the champion of Elysium Mm-hmm You're the bull of Minos I can't imagine who's even stronger than you Is it Heracles? Tell me it's Heracles I will not You talk too much, Short One Come get destroyed Ooh devo stare attento non devo farmi colpire ok questo attacco qua io lo posso parare oh Uh no Non puoi fare come Talius che spambi la La tua ulti Oh Dai Quanto gli manca Non aspettavo che lo rifacesse Dai Non lo vedo Ah aspetta non lo posso più Si arrende Si è arreso No Assolutamente no L'attacco speciale Lancio Infliggo danni maggiori Dove aver ucciso nemico Infligge danni maggiori Bonus danni 150% E' un po' particolare La build che sto facendo No No Ah super morire Devo curarmi In un modo o nell'altro mi devo curare Uff Compito del tiro Siacco speciale per Per aumentarne i danni base Eh O chiave o cosa del caos Però no mi posso curare Andiamo Chariot Ok loro non sono nemici Oh Vai Sta diventando sempre più tosto Il gioco Monetine Oppure ci aumentiamo la vita Io direi di aumentarci la vita Perché siamo in un momento abbastanza critico Cioè io sto senza vita letteralmente Stringbos ooo Sì E ora mi servirebbe Caronte Andiamo da Atena che potrebbe darmi un modo per potermi proteggere meglio Oooo Sì 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 Dai No cerchiamo di non morire Non ci provare Fuck No Cazzo Cazzo Questa però è durata come partita Mi stavo divertendo tantissimo Questa è durata come partita Niente male Hmm Oh no. Il codice ricevuto? Che cos'è? Ah! Lore! Letteralmente. Che dire altro sul conto del mio signore? Signore di un solo della dimora equiservum. Ah ok, questo è il codice di... E' bellissimo. C'è tanto toni da caos 2. Conversando con me Gera. Conversando con Ipnos. Quattordici volte devo confessare. Se io parlo con... Bellissimo. Proidito e brandisce è proprio fascino. C'è ancora un dio da svelare. Attenzione. Altri residenti. Non vedo ragione dei termini del mio passato. Basta di dire che lo sai quanto più... Ardamente mi riuscì. Al fianco dei più valenti guerrieri... Che al mondo più mai conosciuto. Serio? Cerbero. Ah, è giusto, è vero che devo farlo con... Scusa? C'è Askelios, sicura. Che sarebbe quello lì con il quale... Cazzo. Non ci credo, era solo un dungeon quello che mancava. Lama, lancia, arco, scudo del caos. Per me è veramente una delle armi più forti... Che io abbia mai visto. Infidi nemici. Questo è proprio un bestiario. Bellissimo. Artefatti. Ancora da svelare. Ancora da svelare. Ma è bellissimo. Cioè... Cioè... mh chai il ase forgives me oh 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 and don't you ever speak of him to me again loud and clear you are irritating me boy a vast and mm-hm Mosaico di Mosaico dipicta l'Underworld King presiding over the enormity of his domain. Non è davvero così grande. Scusa. Continuo da scurabile. Cambia i miei menti tra le regioni dell'Ottoridomba. In che senso? Vabbè questo non ci interessano i colori. Sala comune. Restauro domestico. Rimuovo i nomi di pelo. Altri restauro necessari. Assolutamente no. Meggera non è qui. Attenzione. Non è. Non c'è nulla. Non c'è nulla. E mentre le nostre sottotitoli sono andate, ti hanno portato il loro responsabilità di essere. Mi comprendo. È solo... Mi sembra di continuare che nulla è cambiato? Questa casa è spazzata nella scena non posso ascoltare oltre allo specchio io non posso potenziarmi e io direi o di riposare dormirò quando sarò morto quindi prossima sezione si dorme allora siccome con lo scudo abbiamo fatto pure abbastanza quante chiavi ho? quindi direi di prendere la spada ovviamente quindi devo prendere il sangue di tartaro con ognuno di loro ok vediamo un attimo solo i doni di zeus eccetera 10% di doni quando compisci un nemico per la prima volta in seguito alle spalle forzo di caronte doni da ogni 4 incontri allora il prossimo dono che otterrai sarà da parte di Afrodite in che senso? sicuramente 5 incontri con questo per salire di grado 5 incontri per farlo salire di grado il prossimo dono che otterrai sarà da parte di zeus e se doni hanno il 10% di possibilità di essere un tipo raro o superiore stessa cosa per Afrodite al momento io ritengo che con l'aria di Cerbero sia quello più forte e al momento direi di sì andiamo facciamo questa cosa ci voglio provare con con la spada perché ovviamente infligge condanna il tuo lancio aprire il vortice di lame di fronte a te il tuo scatto crea un vortice di lame e punze e direi di potenziale il lancio abbiamo già iniziato abbiamo iniziato benissimo mi piace un sacco come abbiamo iniziato questo dungeon qua sei? ok grazie io direi di andare a potenziarci la vita per quanto Atena sia una proposta altellinante molto altellinante ma comunque all'inizio se si ha difficoltà adesso non la provo proprio sarà con Meg sicuramente che proverò difficoltà boff del caos io lo voglio ok per 5 camere le anteprime dei compensi saranno occultate seguire ogni vale del 64% in più 4 incontri i nemici e ci si lanciano una granata a seguire il 71% quando colpisce il nemico alle spalle io direi di fare questo però questo essere proprio stronzi nice aggiornato qui istantaneo ottieni 28 gemme no devo stare attento che adesso mi lanciano le bombe addosso le trappole eh no di questo passo direi di arrendermi subito ciao Ares a a a a a a a no manca poco ti prego dammi qualcosa pialla di sangue sacco speciale infelice condanna c'è la mia torcia non è più lunga risulta nei nemici ci voglio provare voglio provare eh no ho sbagliato tutto comunque questa run un po' peccato però va bene è un problema ho sbagliato tutto in questa run è un po' peccato Mh-hm 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 Beh, già erano? Cioè... Ok... Lo specchio non possiamo usarlo, giusto? Non ancora. Ok, andiamo. Andiamo. Uuuuh... Ciao Artemide! L'attacco è più potente. È il 15% delle probabilità di fare danno critico. Attacco speciale è più potente. Danno critico. Ah, attacco scattante che non ne ho. Direi di fare questo. Già, è me che non mi servono, però va bene. Uuuuh... Ciao Frutite! Uuuuh... Meno male. 72 critico. Uuuuh... Non c'è. Invece no. Una roba come bruci... Un modulo di mega! Un modulo di mega! Una roba come bruci... Un modulo di mega! La roba come bruci... nice caos poi sedone oppure aumentiamo la vita e direi di fare così nulla contro poi sedone che poi sedone oppure da un buon effetto nemici accesi lasciano una granata infernale a seguire ottiene un cristallo in più subisce 44 di danni quando fai eseguire effetto speciale e non va bene nemici sono più numerosi del 31 per cento a seguire il tuo lancio è più potente dell'80 per cento a worthy trade-off surprise hello sir you know prince ed i've not expected to run into you again not after all this time something amiss down in the house or what not had much company of late is all well something's just about always amiss back home sir figured it couldn't hurt to check up on things in tartarus a e io direi fare guarigione c'era l'interazione ok oh nice nice soldi e non saprei no sacco speciale in fliggio questo è buono per sé incontri no 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 mi manca avere doppi lancio afrodite di nuovo quella sfida del forze rottini ferci nel tanto leuse u E' l'ultimo rimasto Nice Ok dobbiamo stare Mi sa che questo sarà il prisma di merda Ah no i due scheletri Ok Aia Nice Ciao furdite Stacco speciale in fregge danni Uuuuh Causa danni all'arrivo Debolisce E' bellissimo usare i buff di afrodite Perché Li rendi maledettamente deboli Uh 56 di vita Martello Il marutello Oh cazzo Ma io mi sono distratto un attimo L'attacco scontata che colpisce due volte e viene infelice il 20% dei danni Tutto un attacco di pesce Uuuuh Questo Ma si Ma si A questo punto Ok Eh già Penso com'è lui in parte Andiamo da Caron A questo punto Mi dobbiamo fare Meg 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 We meet again And there you are again Lord Hades I'm sure he'd welcome all this feedback from you Meg Ok Ok Solo con l'attacco normale che mi curo Voi mi servite per curarmi Basta colpire i minion qua Oh questo è buono in me buff bastardo è buttata solo per la trappola lei dai manca poco nice dovrei ottenere sangue di carta però adesso nice mi piace questo fatto che ci abbia un sacco di sustain adesso almeno un po' di ruba vita questo buff mi piace posso cambiare stesso qua adesso il prossimo dono che otterrai sarà da parte di Ares e gli suoi doni saranno al 10% questo non mi piace come buff perché non sono sempre delle armi a doppio taglio eh sono sempre nemici uccisi per far cadere oggetti che curano curativi per tre incontri attaccando nemici alle spalle assicura la presenza del forze tectonio nella prossima camera se è possibile penso che questo ti avvisa e dire non puoi prenderlo se c'è un boss io prenderei questo e questo e di andarcene ok so quello che mi aspetta adesso andiamo col prendere la chiave e alla fine mi torna utile il fatto che se picchio con l'attacco normale io abbia la possibilità di curarmi sentite obedeci obedeci ok vediamo un po' se posso ammontare la vita eh no il dono agli dèi lo voglio dare comunque questa sarà l'ultima run per stasera dove sei dove sei dove sei dove sei ahia molto male mi ha fatto malissimo più più no vabbè c'è stallo oh bello eh no andiamo a prenderci un dono a me schifo questi non piacciono questi piacciono un sacco mmm amici nelle vicinanze non so dove sia però uh eccoti è morto vieni qua mi serviva curarmi tieni il tuo attacco speciale più potente è danno critico no quando fliggi danni critici a un nemico un altro viene marchiato castigo degli dèi per 6 secondi la vittima ha maggiori probabilità di subire danni dei critici conti di pressione tutti i danni infitti hanno la possibilità di essere critici 2% in più joshua un 15% il 15% dovrei essere a un 17% io direi di fare marchio del cacciatore che è una abilità passiva no no dai nice dammi la ricompensa ok grazie schifo non mi fanno otto gemme dice ares ma c'è un boss c'è artemide ma c'è un boss andiamo di qua questo è un po' casuale questo qui ok ok euridite euridice 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 io sono stupido e mi sa che sto è cresciata la linea no? no 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 amato dagli dèi fino a due case tra le tue donne successivo una privatezza 4 doni a caso tengono un livello app netta rinfrescante i prossimi tre doni che ricevono ma io direi di potenziale tutto quello che ho grazie ci avrò dite mmm no ma io una volta avevo un cristallo che fine ha fatto nice nice puoi riportare resisti parzialmente agli attacchi dei nemici vicini parzialmente quindi una resistenza una difesa potrebbe pure tornarmi utile e potrebbe pure tornarmi utile ciao zel come stai come stai il bot si sveglia lì proprio signori sotto lo shot un attimo solo tutto questo non ho doni che è successo aia che è successo spero che non siano niente di grave oh cazzo meno male niente aspetta devo riprendere il lancio a cazzo ce n'era un terzo che stava lanciando le granate bastardo dal bastardo comunque cosa è successo zel per stare di merda cioè mi direi di aumentarci la vita che è da quando abbiamo ottenuto il dolore di ares che ci curiamo quando picchiamo che andiamo a prendere anche l'idra andiamo a picchiare l'idra ciao dai il rumore fa schifo mi sa che devo modificare qualcosa della terapia con i cambi di stagione quasi sempre in che senso devi cambiare qualcosa della terapia scusami penso che spero che non sia nulla di grave ovviamente perché ovviamente mi dispiace sì cazzo eh non adesso non è di così grave però sto così poi non faccio nulla e mi girano ancora di più le palle sono più polare ah ok no vabbè su quello ti posso comprendere perché io per esempio io studio studiando non lavorando e comprendo un po' come ci si sente a farti girare poi le palle su queste cose eh ma dai ma questo è essere stronzi perdonatemi poi ovviamente non so di che terapia si tratta quindi non posso comprenderti su quel punto ma come remune ma dai sul fattore noia ti comprendo ma non posso comprenderti sull'altro fattore non mi dispiace dirtelo ma quante ne sono basta eh ma dai doveva prendere la testa dell'idra basta sputare sti minion che belli i toni diafrodite ma adesso sono i due stronzo e annoi do e oh yes nice lo devo dire comunque l'idra è molto più semplice rispetto a mezz'era poi non so perché mezz'era col tempo più lo fai più diventa facile per pensare data di esperienza ed è strano visto che mezz'era non fa più quell'attacco e continua a sparare danni ai nemici carazzati e forse non lo so non mi interessa di cambiare oggetto passivo non mi interessa quindi adesso siamo qua che è la tosta comunque mancano siano due dungeon dopo questo c'è questo qua e poi un altro zello comunque se vuoi raccontarmi qualcos'altro vuoi parlare di qualcos'altro tranquillamente che belli gli spondi mamma mia che belli gli spondi io ripeto questo gioco c'ha un style bellissimo andiamo da hermes comunque stavo chiedendo lo spirito vera comunque pure athena sta uscendo molto di meno ultimamente che bello curarsi così che bello sto buff che fa ah si guarda ti do un dono e cose picchiali e ti curi grazie comprendo giustamente c'ha ragione hermes ti muovi più rapidamente schivata rapida dopo un'invocazione la maggior probabilità di schivare sei più rapido praticamente il mio cervello non produce serotonina e dopamina mi servono a ok un po' casino per trovare una terapia che funziona sempre eh ah quello guarda non questo non c'è non lo sapevo quindi mi dispiace però penso sia normale che non puoi trovare sempre una terapia che funzioni sempre perché appunto è un particolare la situazione penso che poi il tuo cervello si abitui a queste cose però ecco alzo le mani prendilo con le pinze quello che sto per dire potrei aver detto anche una grandissima stronzata penso che sia dovuto al fatto che il corpo si abitui a certe a certe farmaci penso ovviamente ho le possibilità che si vabbè io direi hai ragione guarda io ti dirò mi dispiace perché veramente non la sapevo questa cosa però ecco come ti ho detto potrei potrei aver sparato una cacchiata e non lo sapevo e vabbè ma sto stronzo pure tu che però anche perché io non me ne intendo queste cose l'unica cosa che so è ah sì la dopamina ti rende felice bene grazie ed è felicità naturale la tua stoccata la tua stoccata la tua stoccata la tua stoccata c'è 200% delle danni e forse per ieri sia danno critico questo colpo fa male l'attacco scaglie un'onda che trafiggia i nemici che dipende il problema è quando non sai non sai di essere bipolare e fino a che non te lo diagnostico vai a tentativi eh giusto questo è vero e beh ma all'inizio penso che non lo sapevi accettare penso poi ovviamente sono cose che non so come funzionano sul serio vedete ti potenziarci mi spiega pure l'onda mi d'urto mi cura voglio vedere no e per fortuna meglio non saperlo ma è perché io ecco non vorrei dire stupidagini su queste cose sono molto delicato non ci scherzo su queste cose sarò sincero se c'è una cosa che mi hanno insegnato per fortuna è non scherzare sui problemi di salute al tuo e ripeto per fortuna perché molti pensano che si può scherzare su queste cose scusa mi dovrei curare questo gioco lo hai appena iniziato l'ho iniziato la scorsa live mi sono fatto una run una mezza run perché poi l'ho finita durante cioè l'ho fatta prima sono fatto una mezza run off live e diciamo che il gioco mi sta piacendo è fighissimo è divertentissimo e ti e ti induce a migliorare è fighissimo come gioco veramente è un gioco divertentissimo ha un art style incredibile e ammetto di essermi fatto il game pass solo perché volevo provare idis sto giro solo perché volevo provare idis anche perché poi prima o poi faremo qualcosa con il game pass questo mese non dirò altro la tua invocazione Skyion Project eh sì eh 200 2500 di danno sai che ti dico io 2500 euro eh 2500 euro però se vabbè eh magari 2500 ti danno me li piglio allora uh lui sì lui sì Fionzio scusi lei mi serve per curarmi quindi ah sì sì sta sul pass l'hanno messo a un euro per lo più l'ho potuto prendere così ho detto va benissimo grazie anche perché l'avevano annunciato l'anno scorso che arrivava sul pass idis e volevo giocarci eh devo togliermi due di mezzo adesso pure questi qua dai 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 nice oh yes io l'abbonamento è gratis eh ciao ciao Dionzio allora scatto ubriagante bere una fontana ripristina tutta la vita coprisci danni extra se la tua vita è bassa dopo un incontro risale alla soglia minima us voglio fare ubriagare nemici faccio diventare sbronzi uno dopo l'altro potenziamoci però è bellissimo che puoi fare questa cosa sono porcate queste ti faccio sbronzare bellissimo ah eh però Zell a te piacciono i roguelike questa è una cosa a cui ti devo preparare cioè ti devi preparare psicologicamente questo è un gioco difficile quando vuole lui ovviamente certo non è a livelli di Nioh oh yes grazie l'attacco è più potente qua il danno critico no? quanti più eeeh aumentiamo il danno critico c'è la possibilità di critico entrambi portano al boss io direi di prendere questo che almeno così posso spenderli ma come mi aspettavo il minotauro pure sto giro nice Nice Ah giusto Non ci pensare nemmeno Nice Ah lui ha Oh no Uff Il fatto che si rigenere È proprio ansia qui È proprio l'ansia più totale Il fatto che si rigenere Adesso sì Com'è finito il cristallo Ah ok Ciao Sarebbe proprio un peccato Se ti picchio Meno male che il colpo Inseguo i nemici Dai dai Triple cristalli Mamma mia che odio Eh sì C'è molto bordello Però è divertente Però questa è la cosa bella Non è come altri giochi Che rischi di confonderti Tu dove sei Queste cose qui Questo è un pregio Che faccio al gioco Perché Vedo Per quanto ci sia Bordello Sullo schermo Tu hai sempre Modo e maniera Di capire Due sei Perché Zacchaeus Si vede Che è diverso Ok C'è Come posso dire Se è vestito di rosso Perché È fatto apposta Cioè Devo Interrompere un po' la vita No no È rotto I coglioni Basta Anche perché Tu attacchi di continuo Quindi sai Dove stai andando Tu non ci provare Ad andare Su tuo spirito E dire Ah sì Adesso mi digenero Stronzo Ai prossimi Poi una cosa Che adoro Di questo gioco Sono pure I vari Dei I vari Dei Cresci Che commentano E Vedono Quello che fai È bellissimo Ah tipo Se te la fai Con Afrodite Dicono Ah sì Te la fai Con Afrodite Se prendi Più doni di Zeus Dicono Ah Il padre Nostri Dei Padre di tutti Gli dei Ti ha donato Questa cosa È bellissimo Perché poi Commentano Tra di loro Oppure a volte Ti costringono A scegliere Il buff E inizia Il bordello Verre e proprio Perché poi Non solo scateni I nemici Della stanza Ma scateni Anche la La furia Degli dei Ed è Fidichissimo Cioè Tutto questo Per aumentarmi La vita Qui che ottengo Ottengo Fino al 100 di oro Non mi interessa Non mi serve Andiamo da Caronte Un po' Andiamo a vedere Se Caronte Ha Qualche buff Che potrebbe vendermi Che cos'è Eroico Il tuo scatto Crea un vortice Di rame Quindi qui sei partito Vortice per colpo No Tastico vendicativo Dopo aver subito In felicità Ma i nemici Condanna Direi di potenziare Il lancio Che Da inizio Partita Che Dove sta Caronte Caronte Amico mio Come stai A curarmi Non mi dovrei curare Però non mi fa conversare Con lui Peccato Ah Oh wow Ah Ah Now you face The foe More terrible Even than I The only other foe Who might ever Faced Who bested me Hold Ciao, teseo. Ah, devo fare pure il Minotauro? E' un po' cattiva, però, eh. Il fatto che debba affrontarne due insieme. Il tuo? E' un po' cattiva. Madonna. Cazzo sta succedendo? No, ok. Zeus? Eh, no. Non posso morire io. Minotauro è immune. Devo un po' picchiarli. O farli picchiare tra di loro, vai. Eh, fuck. Eh, niente. Cordello più totale. Cordello più totale. Adesso non devo vedere qua come lo devo affrontare lui. Voglio pure io la rivincita, però non adesso. Cioè, è un po' tardi adesso per la rivincita. È un po' rip. Oh, hey there, Dusa. How's your endless toil treating you? Um, mister Hypnos, do you? Maybe think that you could, you know, keep an eye on the procession line before Lord Hades? Like you were supposed to? Oh, um, that's no problem. I can definitely do that. I'll just add it to the list. Um, good, then. Glad we had the chance to chat. Now, maybe get some sleep or something. You look pretty beat. Get on it, Hoppus. Achilles è un po' picchiare. 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 She is gone, boy. She is gone. You are never going to locate her. I thought we would have come to that conclusion for yourself by now. But apparently it must be said. Ah, grazie. Eh... Grazie, padre. How would you even know? You said reaching the surface was impossible as well, and I'm in striking distance. This is my final warning to you, boy, to cease this mindless quest, or else the consequences shall be worse than what you have experienced thus far. Sorry, father. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. Però dai. Hey, boy. Just me again. Here to report, it's pretty dangerous out there, even without you on guard duty all the time. The venerable hound of hell barely acknowledges the softly spoken prince's platitude. Knowing full well the underworld is not as vigilantly guarded as an age's past. Oh, just as long as one of your three heads enjoys these pets. In here. Oh, fortunate server sees something in here. Oh, Meg. Hey, uh, what's that you're drinking, Meg? Anything good? Whatever it is, it's weak. You don't have to be mistaken for your blood. Nice. Well, I'll just leave you to it then. Leave me alone. No. Che dovrei vedere? What's up for Barter? No, Lettare no. Sì, sono uno più arrabbiato dell'altro con Zagreus. Nix qua non c'è. A causa della morte c'è vecchiaia. Ok. No. Andiamo un po' in giro. It's locked. You stay away from there. Mm. Not as comfy as it looks. Quick middling back there. Non posso ficca nasar, perché voglio andare nelle altre stanze. Vabbè, vediamo un po'. That's a lot of gemstones. Possiamo aggiungere... Ah, oltre il cromo possiamo mettere anche questi? Here's the commission. Tieni. Tieni. Ok, le tante e l'alte devono stare in camera mia. Io ho desito quello che voglio io. Sto lasciando beve. Allora. Non so se posso riposare. E c'ho 339. Comunque. Io direi... No, è l'uno e mezzo. Abbiamo fatto un bel po' di live oltre quella lì di fasmafobia. Cioè, abbiamo fatto un... L'abbiamo fatto un nudo d'ore. Credo. Quanto stiamo adesso? Un'ora e 46. Abbiamo fatto sieno tre ore di live. Quindi direi... Di andare a dormire. Buona, sì... Eh, no, niente. Arrivo a Gagliopo. Ciao, Gagliopo. Signori. Anche a lui lo sciottino di turno. Prenda al volo lo sciottino. Prego. E stavi portando Yakuza Zero. Ti sta piacendo, Gagliopo? No, figurati. Grazie a te. A me... A me spesso e volentieri mi aiutate sempre, quindi... Visto come si fa? No. Vabbè, vogliamo farci un'altra run? Prendiamo un'altra arma? Vogliamo provare un'altra arma? Non lo so. C'è un'altra... Un'ultima run e poi... Ciao. Poi vediamo un po' cosa fare. Quindi ora... Io vorrei provare la lancia. Mi è venuta voglia di fare un'altra run. 25... Solo 25. E invece... Ah sì, dai. Facciamoci un'ultima run. Cos'è quello lì? Otterrai da parte di Artemis? Dai, 12%... Allora, io direi a sto punto... Cos'altro c'è qui? Tartaro... Io direi di aumentare un po' i danni. Vediamo un po' come si fa. Un'ultima volta. Tiago... Uh, grazie. Caricare il tuo attacco ruteante. Ti rende risoluto. Tu... Tu... Qui... Adoro ste cose. Adoro sto gioco. E io a futuro l'hai mai provato questo gioco? Ok. mancano due chiavi alla prossima arma signori l'ho solo visto e devo dire che un pochino mi intriga io devo dirti la verità io ieri solo non l'avevo mai visto questo gioco cioè mai visto nel senso mi interessava solo il crowdfunding perché non l'avevo ancora giocato attacco speciale con infligge condanna che subito lo prendo è figo fighissimo per essere un gioco isometrico molto alla minding of Isaac se vogliamo è un gioco in cui metti la monetina e continui ma comunque stiamo provando quest'arma acquaghe ok grazie qua abbiamo un'altra stanza no andiamo io ho bisogno di caos aspetta non ci sono solo questi teschi mi manca il buff che mi posso curare atena andiamo di atena che magari mi dà qualcosa di interessante atena mini atena attacco speciale più potente no assolutamente no il tuo lancio infligge danni in un'aria danni in un'aria e respinge gli attacchi nemici no quando viene colpito a causa di danni in un'aria ok proviamo il lancio assolutamente no quello lì che il lancio respinge i nemici devi essere maledettamente schillato per farlo passivi attacco speciale uh nice altra atena signorina atena atena poi la cosa bella ti protegge ma ti dà dei buff bellissimi atena anche se quelli miei preferiti ormai sono quelli di afrodite di di onzio cioè di onzio mi fa scassare quello che mi dà sembra un po' Pegasus questo attacco rispinge il più potente rispinge gli attacchi nemici lo scatto e vi infligge danni e rispinge gli attacchi nemici eh sì sembra un po' Pegasus in questo senso eh sì intendi Pegasus dei cavalieri dello zodiaco dai c'è me oh no io non voglio far scatenare la lira degli dei sui me però entrambi mi mi fanno comodo allora adesso vi faccio vedere cosa significa farli incazzare no c'era l'invocazione ha ragione però e niente si è incazzata la tela proprio grazie molto gentiale attacchi da terra e spinti pericolo danni maggiori grazie casualità adesso te la sei giocata quella è permalosa ciao che chaddone sì sì è molto chaddone nel frattempo mi da qualcosa a mia scelta io direi prendere un po' di tenebra perché mo mi danno i money va bene bene gioco non è quello che volevo ma accetto lo stesso vai però io già sto per morire fantastico scusi mi vorrei curare il gioco no c'è caronte grazie caronte vieni qui chi è qua bello ciao po' spostitone attacco speciale attacco normale sono più potenti per i primi 10 secondi di ogni incontro è l'unico mi è proprio l'unico buono ciao caronte che bello che è caronte l'artwork di caronte ciao meg ciao meg eh ma non mi posso curare però devo stare un po' attente che niente non c'è per cristallo morri vorrei quel buff che no no vorrei quel buff che mi cura ogni volta che che attacco povero ah no no chi è morto nooo io fancavo pochissimo cazzo vabbè abbiamo fatto un'ultima run almeno fanculo porca puttana altro che incontri su tecken voi non potete immaginare la stessa sensazione dell'epic rallenty per vedere chi cazzo ha colpito prima hypnos comunque che cazzo ciao a guida che cazzo ha un'ultima relicca di tipo un'ultima un'ultima di un'ultima di un'ultima che si formato dopo averla con Megara è questo davvero il sangue di titano che ho trovato? as far as i know yes lad that it is the who's exactly i'm not so sure you best hang on to it and keep it safe your weapons they shall thirst for it and drink it up not yet perhaps but soon well i wasn't about to drink it a pitiful attempt what did i tell you you're time and mine how fairs my underworld i don't know how you can stand it well at least some things are running smoothly still next to go to die again do give the tortured souls out there my warm regards no lo coccoliamo pure vieni qua vieni mi vuole molto bene ade cioè è mio padre ma mi vuole molto bene eh no sono chiavi è bellissimo il fatto che puoi coccolare gerbero mhm mhm ah quello gli facevano male ai piedi ok salve eh io direi di fermarci qua comunque per stasera veramente eh sono quasi le due non vorrei fare altro un'altra ora tardi sincero ho fatto una run in più sì però bellissimo messo gioco piace un sacco eh eh signori scostiamo di qua eh eh ora aperto mhm ma una musica abbastanza aggressiva lo devo dire eh io direi io direi di andare a vedere un po' chi c'è online andiamo a fare un bellissimo giro e andiamo a fare un raid ozzo a qualcuno ovviamente senza andare a fare risse né niente né qualcosa di cattivo semplicemente gli diciamo ehi io ho saputo che lei sta stremmando e adesso noi continuiamo a guardare in questo modo qua minaccioso penso non le dico mai ste stronzate però va bene io direi di andare proprio dalla buonissima M perché Ernest non c'è Ernest non c'è Derekone non c'è Derekino non c'è oh non c'è Derek peccato ho perduto i ghele eh il fatto è che c'era anche Manana potrei potrei dare trovo andiamo ad Am sto giro che non la raido da un po' eh no ha fatto il raid 5 minuti fa ad Am ahhh ecco vabbè io però nel frattempo faccio una bella cosa siccome volevo fare anche uno un come come volevo fare anche il raid a lui gli faccio almeno lo shottino che mi va e io vi ricordo che qui ci sono i social social belli e qui abbiamo anche il mio Instagram dove ogni tanto metto dei disegni in questi giorni dovrei fare quelli del emoto per i follower perché li ho sbloccati anche io e niente ci vediamo da M vi do la buonanotte a tutti e spero che domani possa iniziare molto prima e divertirci molto di più e non lo so cosa portare sicuramente non porterò ehm giochi dove si sparano a ai monaci e si cerca di salvare una ragazzina e poi sparare la ragazzina perché si ovviamente ciao ragazzi che c'è che c'è